E ciao a tutti ragazzi sono Stevie Christian Pro e oggi ci troviamo in questo nuovissimo video di Minecraft Oggi siamo ancora su TheKiv con Jesse Jonathan, Alex Gabriele Pro e una nuvola sopra di noi Perfetto, guardate quanto siamo in alto, in questa persona si vede poco Ok ecco siamo in altissimo e non si vedono neanche i player sotto Perfetto, ora giocheremo alle Bill Button, non so bene il nome, credo di si E si cade anche shiftati su questo server, quindi devo stare attento Ok sì ma se siamo tutti in un blocco magari, ok ora iniziamo nel video Ok ora dobbiamo cadere, cadiamo, siamo morti Dov'è Jonathan? Ok andiamo, lagga un po' eh Gio dai vieni Arriviamo a te Visto che c'è anche Giuseppino online, un amico di Minecraft Invito il party, vai Accetta il party Giuseppino brava No no tu non toccare niente, aspetta vediamo quanti siamo nel party Ma Ma siete nel, ma non siete nel party raga Accettate il party dai Ok Ok Raga ora visto che abbiamo, siamo tutti nel party Giochiamo alle Bill Button Però siamo in quattro, quindi non lo so Facciamo quattro contro quattro Siamo in quattro Eh sì dovremmo fare quattro Ok Proviamo, no c'è fino a due Però proviamo, magari me lo fa fare Sì vai, ok è andato Vediamo in quale squadra sono Spero che non sono con Gabriele Che è super nabbo sulle coste Bill Button Qua c'è scritto tutto zero Invece io ho tanti numeri E non sono nabbo E tu con chi sei? Eh non lo so E guarda tanti kill ha fatto Ma non sono kill, Gabriele non devi killare tu Quasi di costruire Non lo so Allora vediamo Vediamo cosa dobbiamo fare Cos'è Trigoz? Cos'è Gio? Tre case Tre case? Sì Non è tre cavalli? No, ok Mi confondo sempre con cavalli e case Ok, tre cavalli Come li facciamo? Ma io sono blocchi Gabriele mi sa che è con te comunque Allora, bravo Tu prendi i blocchi Io non so come fare Tre case Cavalli e tre case Tre case? Lo so Gio Allora io mi faccio la strada magari Con il cacciestrutto No vabbè Voglio fare tipo una strada Voglio fare tipo una strada Sì, sembra un po' di minerali Sì, sono minerali però Eh, Gio Meglio quando io sto con te, vero? Io sto facendo schibette Ma dove è Gio Zuppine poi? Ah, mi sta aiutando Che cosa è strada? Devo fare una strada con tre case Ah, bravo Hai messo questo Raga, mi sapete dire qua Come si fa a mettere Questo pezzo Cioè, tutto Verde Se cambiblocki Io non lo so ancora il comando Ok, io metto Lastra Questi qui E poi metto le strade Come ci fa una casa? Uno Due E poi metto di qua Guardi, fai la strada La strada? Ok Questa casa la faccio in legno Abbiamo Io metto un po' di pali Dove essere bella la mia, eh Cioè La pali Ok Metto tutto questo Qua ci faccio un'altra casa Anzi, faccio una casa Diamante Smeraldo E ferro No Aspetta Smeraldo ora è diamante È casa dei ricchi Vabbè No, vabbè No, vabbè Scherzo Allora Poi faccio una di così Una di così Ok Non lo so come vorresti fare te Che cosa state facendo? Oh, io voglio proprio seguire Adesso Gabriele non mi vuole far vedere il suo schermo Meglio che non sai che cosa sto facendo No, Giuseppino è uscito No, Giuseppino è uscito Ora devo far tutto da solo Perfetto, eh No, Giuseppino è brutto È brutto Giù, devi avere pazienza Tre case Mi farei tre case Che casa di steli L'ultima la faccio piccolissima Mitz Se no spreco troppo tempo A me non mi ha fatto il pavimento di Ok Sì, ma questa qui non mi piace Eh Male Male Non c'è nessuno che mi aiuta qua Poi Giuseppino è uscita anche Sto facendo tre case Eh, anche io Mitz Io secondo me non riesco Vediamo se riesco a farli a te Ma io come faccio con così poco tempo? No, non ci riesco Ecco, mancano pochi minuti Eh Eh, devo vedere proprio lo schermo di Gabri Fammelo vedere Gabri Eh, sempre no Ok Fare il pavimento velocissimo Ok Eh, questa roba Non ha proprio senso Sì, è meglio con te Lo so Gabri, non fa Do che rallentare Eh, io non so cosa fare Gabri, devi fare tre case Allora Adesso devo fare la porta Faccio i momenti Faccio la porta tutti così Faccio i momenti E' brutta E' brutta Quella dopo Ma io come faccio in quattro minuti A fare quattro case Le sto facendo anche grandi Dai, come grandi? No, quelle piccole Qua ci faccio il cammino Secondo me Io stavo a sistemare qui Quello che fa Gabriele Stavo facendo uno schifo Uno schifo sta facendo Che casino Gabri, impegnati di più Ok, raga Adesso sto per finire Non so se riuscirò a fare le strade No, ovviamente non riesco Riuscirò a fare il marciapiere in tempo? Mancano pochissimi secondi Io se avevo più tempo La facevo molto più bella Dai, le porte aperte Aperte le porte Ecco, bravo Ok, manca Dai Eh sì, dieci secondi per fare marciapieri Mi manca più della metà No, mi manca solo una striscia Dai No No Eh no, zi no Proprio la mia all'inizio Guarda Già, metti love Ti vedo, eh Lo metto lo stesso anch'io dopo Johnny, metti love Ti metto quello rosso dopo È impossibile Cosa è impossibile Questo cos'è? Questo che cos'è? Eh Io tipo metto un arancio No, fa schifo No, no Fa schifo Cioè No, no Rosso, rosso È brutto Ok Vediamo questo Ma questo cos'è? Rosso 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 Ma non ha senso Ma non ha senso Ma chi è che costruisce queste cose? Io non ho divuato la casa dell'ambero Ma addirittura ha mezzo verde? Questo cos'è? È un po' povera Cioè Vabbè, allora lo metto anch'io Sì, vabbè Tutto rosso sto mettendo Non ho mai fatto sta cosa Ma cos'è sto alberello qua così a caso? Sì, vabbè Non ha proprio senso Johnny, questo è il tuo? Chris Chris, non funziona Aiuto Eh, Gabri Non ci posso fare niente Eh, Gio Questo è il tuo? Sì, è il nostro Ok Allora metto lo Ma è veramente il tuo? Chris, ma come si Sì, è un po' povera Cioè L'ho fatta meglio io Oh, io la devo vincere Eh, questo ci ha fatto un po' di fatica Metto arancione Perché è un Verde Verde, vabbè Allora No, io gli metto un giallo Dai Sì Sì, la mia faceva schifo No, dai Vabbè Sì, infatti io Avrò messo arancione Abbiamo perso Qui Cos'è sta roba? Già, ma Sì, sì, sì Sì, sì Sicuro che Tre cose vuol dire Eh, tre case Cioè, io penso Secondo me è casa sull'albero Io è molto vero Ma questa poi fa schifo Cioè, ma non ha senso Non ha senso Non ha senso Questa casa Io posso vero Ok Uh, vediamo Apriamo sta porta Vediamo dove va Cioè, non servirebbe a niente Fare le scale Perché visto che siamo Volo Oh, bella No, io dai Gli metto un verde Cioè, bellissima Bellissimo dentro Ok, questo cos'è? Secondo me questo Oh, mamma Mi sta bugando la visuale Troppo Troppi caricamenti Fa schifo Aspetta, no Già, secondo me Tre cose vuol dire Casa sull'albero Sì, vabbè Più di più Di più di così Cioè Più di così Cioè No Aggiungiamo un'altra persona Cioè Strapieno Ok, vediamo chi ha vinto Sì Eh Hai certo? Tra tutto Ma era Era casa sull'albero Ah Cattivo Cattivo Gio Tu devi Perché Hai sbagliato Perché Sei tu che hai il traduttore In mano Ma no Senza Poi Sì Io non so cosa costruire Cos'è Gio Cos'è Gio Veloce Gio Abbiamo già pochissimo tempo Sotterra Cos'è Gio Sei con qualcun altro Tu Oh ma ho bugato Ok Ok raga No Ma che cosa Non lo so Sei tu il traduttore Veloce Ok Vabbè Salto un pezzo del video Allora Prigione vuol dire Perfetto Allora Così Tipo un carcere Dobbiamo fare Ok Io il pavimento Lo faccio Così Ok Ehi Gio Ci sei? Vabbè Io inizio Così Ok Gio Mi ha detto Che devo scrivere Polizia A terra Allora Così Giochi Giochi Ma questa prigione Non è una prigione Questa Che prigione È? Perché mi fa Stamare Se la faccio Un dirò Perché non Sì Sempre scuse Cavari Ma basta ridere Polizia La Polizia Ok L'ho scritta Polizia No Mi si Baga La Visuale Ok Polizia Perfetto Già l'ho fatta Ok Io sto facendo L'entrata E sta venendo Abbastanza bene Eccoci qua Guarda che skin Che hai Guarda che bello Ok Spostati Spostati Ok Ok Metto Un po' Di barre Infatti Questo è tipo L'entrata Che bello Il corridoio Però Faccio così Per chiudere Già Metti la porta Di ferro Come l'ho scritta Male Eh Dovevi Non lo dovevi Fare in diamante Eh no I pro sono in diamante No E se Quei colori Da polizia Una lettera L'acqua E giù L'altra Rossa Così Già Comunque Cioè Qua c'è lo spazio Per uscire Cioè C'è il prigioniero Qua esce Liberamente Questo cos'è Ma Vabbè Questa prigione È per i poveri E poi Qua ne facciamo un'altra Abbiamo tre minuti Faccio un'altra cella Vabbè Facciamo un'altra da poveri Sì Proprio un'altra da poveri Sì vabbè Ma cos'è sta cosa Già Per favore Non posso chiedere aiuto Adesso Ok Qui ci mettiamo in prigione Pietrandria Che si comporta Sempre male Nel tuo mondo Ok Altre celle Perfetto Qua non c'è niente Qua metto Porta così A caso E qui ci metto Così E Già Credo che abbiamo finito Comunque Dai Non è brutta Eh Eh vabbè Già Però Sempre migliore Deve farla Guarda Ok Questo non so Proprio che cos'è Quindi Mi piace però Vabbè La prigione Non sta venendo male Ok Qua c'è Una porta Però sì Vabbè Poi Gli spettatori Parivano a entrare Qua cosa serve Entrare Si può aprire Cioè Il pulsante Io lo sclicco E non si apre la porta Cioè Non ha senso Vabbè Comunque Su Il server È tutto diverso Un minuto Ragazzi Manca Un minuto Vero 50 secondi Già Polisse Troppo Troppo Da Vabbè Vabbè Fa niente Va bene Va bene Un minuto Studista Studista Cos'è sta cosa Vabbè Comunque Mi piace Nabbo Costruisci Nabbo Perché lo chiami Nabbo Gabri Lui Chiama Pro Ma Nel chiamo Nabbo Non si chiama Però non si chiama Nabbo No Gabri Cosa stai Dice Chissà Con che stai Costruendo No Io devo Proprio Vedere Dopo Ok Passiamo Alla finale Ok Iniziamo Sulle votazioni E la prima È la nostra Perfetto La prima È la nostra Sta laggando Un po' Ecco Guarda Tutti che entro Guarda Tutti per entrare In cela Ragazzi Tutti in cela Sono entrati Guarda Uno ha messo Verde Non mettere Arancione Non mettere Rosso Dai Sono belle Come fanno a dire Che brutta Tutta la fatica Che abbiamo fatto Questa cos'è Oh mamma Mi sta laggando il mondo Questa è più una tortura Che una Una cella Ma cos'è Ma non Ma questa Questa è più una tortura Che una cella Perché non in fuoco La connessione ce l'ho Sì Ok Quando stiamo Infuocando Ok Io sono infuocato Rosso Rosso Eh Questa è già una prigione Già Potevamo fare Le barriere Non si può aprire Però Oh gli altri Come hanno fatto Entrare C'è un C'è un Bella Bella Questa Io gli metto Tipo Un verde Perché è bella Io gli metto Giallo Anche io Lime Mi metti Bella questa Con il pistole E il prigioniero In prigione Questa cos'è No Allora Già Dico Me Poi vediamo Ma che fatica Fatto No è brutta Non mi piace Ma quante persone ci sono Che vogliono entrare in cella Mica Mica siete prigioniere Che danno avete fatto Un po' di lava Cioè Che Che prigione È un po' strana come prigione Però Ok Inizio Adesso precipito Ok Ok Via Finita Vediamo chi ha vinto Già È impossibile che Perdiamo Cioè dai È bellissima la nostra Eh Abbiamo vinto Guarda che belli Guarda No Cambia skin Ecco brava Questa è la più bella E per questo viene finito Ricordatevi Diamo un bel mi piace Iscrivetevi al canale Se non è ancora Fatto Condividete il mio canale Con i vostri amici E noi ci possiamo vedere La prossima Volta Ciao 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 Johnny comunque Era in chiamata Non so se l'avete sentito